Ragazzuoli, come mi aspettavo e come ci aspettavamo? Annullata la sentenza dei 15 punti che io ho ritenuto folle, se ricordate, però bisognerà tornare alla Corte Federale d'Appello. Quindi non è un senza rinvio, ma è con il rinvio. Torneremo alla Corte Federale d'Appello per discutere di questa cosa. Quindi è stata parzialmente accolta la richiesta del procuratore alla Corte del Collegio del Coni, che ha chiesto l'annullamento di questa sentenza che è stata fatta con il ritorno alla Corte Federale d'Appello per un nuovo giudizio e per una nuova sentenza che arriverà fra un mese. Questo è quanto ho deliberato dalla Corte di Garanzia del Coni. Voglio dirvi la mia, molto tranquillamente. Me l'aspettavo sì. Me l'aspettavo, in punta di diritto sarebbe stata una sentenza da annullare totalmente per tutti i vizi di forma che abbiamo visto. Per tutti i vizi di forma che abbiamo visto. Il fatto è che adesso è complicato fare delle previsioni su cosa poi accadrà nuovamente alla Corte Federale d'Appello, perché so già che la domanda che siete pronti a farmi è la seguente. Ma quindi colpo rischia una nuova penalizzazione. Da vedere. Da vedere perché ad oggi, per quanto scritto nel dispositivo, è complicato dirvelo, perché dobbiamo aspettare le motivazioni che hanno portato la Corte del Collegio di Garanzia del Coni all'annullamento della sentenza e al rinvio alla Corte Federale d'Appello. È molto probabile che esistano dei limiti e dei paletti entro i quali la Corte Federale d'Appello dovrà stare. Quindi non è del tutto corretto dire che non rischiamo di nuovo una penalizzazione. Ad oggi non c'è dato saperlo, visto e considerata la situazione di oggi del ricorso che è stato approvato, senza le motivazioni. Grazie alle motivazioni potremo scoprire se ci sono dei paletti sull'utilizzo dell'articolo 4, perché è stata eccessiva, il motivare meglio persino le sanzioni che sono state date ai singoli dirigenti e poi da lì verrà data una nuova sentenza con un quadro un po' più chiaro della situazione. Questa è la situazione attuale. Questo è quello che è successo oggi. Ci hanno messo mille ore per fare questa roba qua, che era la via più facile, la scoracciatoia più facile. E sapete che vi dico? Che questa è un'altra sentenza politica, perché c'è l'incapacità di prendere posizione, c'è l'incapacità di decidere in punta di diritto. Si decide perché politicamente l'annullamento senza rinvio avrebbe portato a delle conseguenze enormi, interne alla Procura federale, con teste che cadono, per intenderci, e probabilmente anche ripercussioni per il giudice Torsello che ha fatto una sentenza scritta a quei piedi. Questa è la mia opinione a tal proposito. Per cui vi dico, ad oggi ragazzi, non montate panico, stiamo attenti nei prossimi due giorni. Dovrebbe uscire la motivazione che ha portato la Corte del Collegio del Coni, di Garanzia del Coni, a decidere all'annullamento con rinvio. Vediamo quali sono le istruzioni che poi vengono date alla Corte federale d'appello. Perché a mio parere, oggi anche la partita dove si giocava nell'annullamento senza rinvio e nell'annullamento con rinvio, sull'utilizzo fluido dell'articolo 4, nel senso, lo si può mettere per ogni cosa, un po' come il prezzemolo o il sale, ancora meglio, che viene utilizzato ovunque. Quindi l'articolo 4 lo stanno mettendo in mezzo a mille altre cose. E vi dico una cosa, chi oggi è incazzato per i 15 punti che ci vengono ridati? Sbaglia perché devo sperare nell'annullamento senza rinvio in generale. Perché adesso ci sono altre squadre che hanno delle situazioni delicate sul piano di bilancio, eccetera. E se la Procura federale ha il potere di ricadere per ogni minima cagata e ogni minima correlazione o ogni minima intercettazione sempre sull'articolo 4, il rischio è di creare un cortocircuito pazzesco. Perché il precedente che si sta creando attualmente poi ricadrà anche sugli altri. Altra cosa importante, altra cosa importante, credo che il monito che verrà dato dalla Corte del Collegio di Garanzia del Coni sarà importante. Sarò curioso veramente di vedere le motivazioni. Ad oggi però cosa vi dico? Siamo terzi in classifica? Yes! Sì ragazzi, siamo terzi in classifica. La situazione può cambiare sì o no dipende dalle motivazioni che vengono date alla Corte di Garanzia del Coni. In base a quelle motivazioni si deciderà il prossimo appello alla Corte federale. Punto. L'avevamo già detta sta possibilità e quindi io mi aspettavo in realtà ragazzi l'annullamento senza rinvio pesante 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 come anche sarebbe stato un ottimo pretesto per mettere fine a determinate porcate che vengono fatte dalla Procura federale e dalle varie sentenze dei vari gradi di giudizio federali. Sarebbe stata veramente la volta buona per dire alla FIGC rimettetevi al passo coi tempi nei regolamenti non buttate in mezzo nel calderone cose strane non cercate di incriminare solamente a piacimento e a simpatia cercate di fare le cose per bene perché in questo momento a mio parere nella Juve nella sentenza che è stata annullata c'è stato dell'accanimento e io vi chiedo una cosa ragazzi voi se fossete nei panni della Juve che cosa fareste? Io la risposta me la sono data ed è la seguente se la Juventus continuerà questa roba qua e ne uscirà indenne beh ha un jolly pesca un jolly importante ed è anche per questo che secondo me l'annullamento con rinvio è stata la scelta più facile perché se la Juve ne uscisse con la sentenza completamente annullata senza rinvio capite bene che può sfruttare il jolly io vado a fare la richiesta da anni al Tar o al Consiglio di Stato e cara FIGC ti rovino per cui una piena assoluzione chiamiamola così ecco una piena assoluzione per difetti della sentenza ok avrebbe portato la FIGC ad essere in debito con la Juventus però occhio perché questo nuovo scenario potrebbe aprire altre situazioni per il filone stipendi e io qua mi limito mi blocco e non vado oltre con pensieri miei perché altrimenti si fa confusione né con previsioni evito ciò aspetto che il buon Cristian Belli l'avvocato Spallone Cataldo Intrieri professionisti di un certo calibro mi spieghino la situazione la capisco la comprendo la faccio mia e vi dico la mia opinione punto perché poi andiamo veramente su tecnicismi quindi sentenza che mi accontenta a metà contento per il rientro per l'integro dei punti vediamo vediamo se adesso con una nuova sentenza verrà consentito alla Corte Federale d'appello l'utilizzo dell'articolo 4 così a piacimento vedremo se c'è il rischio di nuovi punti di penalizzazione e ripeto se la cosa dovesse andare male io auspico sempre la insomma che auspico il fatto che la Juventus possa rompere la clausola compromissoria e possa andare a combattere anche su altri tribunali perché ci sono tutti gli estremi per poter combattere anche in tribunali e chiedere risaricimenti importanti non vi daranno mai i punti indietro non ci daranno non toglieranno mai le squalifiche o le inibizioni dei dirigenti no quando andremo al tribunale ordinario sarà per una sola ragione questo ciao belli grazie grazie grazie